Tutti i miracoli vengono da Dio? Quando vedi un miracolo, puoi essere certo che è stato Dio a operare? Parlando degli ultimi tempi, Gesù disse in Matteo 24 al versetto 24 Questo versetto è tratto dal suo sermone profetico, nel quale Gesù parla degli ultimi tempi. E quindi Gesù ci dice che ci saranno inganni tramite quali Satana cercherà di convincere o di ingannare anche gli eletti di Dio. E il testo parla di segni e prodigi, cioè di miracoli, ma evidentemente falsi miracoli perché sono volti a ingannare i credenti. Satana quindi ha il potere di fare miracoli. Quindi per rispondere alla domanda tutti i miracoli vengono da Dio? No, non necessariamente. Dio fa ancora miracoli? Certo, Dio ha il potere di fare miracoli oggi come aveva il potere di fare miracoli ai tempi della Bibbia. Quindi Dio non ha mai chiuso l'azienda dei miracoli. Dio ancora compie miracoli nel mondo oggi. Però anche Satana dall'altra parte ha facoltà, ha potere di fare miracoli e negli ultimi tempi abbiamo letto e anche nella puntata precedente, e abbiamo sul marchio della bestia, abbiamo visto che ci saranno falsi segni e false miracoli che saranno usati dal protestantesimo americano come segno dell'evidenza dell'approvazione di Dio nei loro confronti. Satana ha il potere di fare miracoli, ma Satana non ha il potere di fare ogni miracolo. Ad esempio, Satana non può risuscitare una persona che è veramente morta. Potrebbe far credere che una persona sia morta e magari far credere di averla riportata in vita, che ci sia un miracolo di risurrezione, ma un vero miracolo di risurrezione. Satana non lo può compiere perché Satana non è Dio, non è il creatore, non ha la vita in sé, la sua vita dipende da quella di Dio, non ha il potere di creare la vita. Solo Dio ha il potere di creare la vita. Quindi, certamente Satana ha il potere di fare miracoli, ma non tutti. E ricordiamo sempre che Dio ha comunque in mano le redini della storia. Dio permette a Satana la libertà di agire, ma a volte Dio traccia una linea che Satana non può oltrepassare. In un altro testo che parla della fine dei tempi, ancora una volta troviamo che si parla di miracoli. Secondo a Tessalonicesi 2, versetti da 8 a 10. Allora sarà manifestato quell'iniquo, e si parla dell'anticristo qui, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. L'avvenuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di progigi bugiardi, quindi falsi miracoli. E con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. Quindi questo passaggio è la profezia sulla venuta dell'anticristo, e Paolo ci parla ancora una volta di segni miracolosi, quindi Gesù ci parla di falsi miracoli alla fine dei tempi, e qui questo è un testo che parla anche della fine dei tempi, perché ci dice che il potere dell'anticristo verrà distrutto col soffio della bocca di Gesù alla sua seconda venuta. Quindi anche in questo brano, dove si parla pure della fine dei tempi, si parla di falsi miracoli. E coloro che saranno ingannati lo saranno, il testo ci dice, perché non avranno avuto amore per la verità. Quindi gli eletti possono essere ingannati? Lo abbiamo letto in Matteo 24, che Satana vorrebbe sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. E la domanda è, gli eletti possono essere ingannati? Gli eletti sì, possono essere ingannati, altrimenti Satana non ci proverebbe nemmeno, ma gli eletti non possono essere ingannati fino a che rimangono aggrappati alla parola di Dio, perché la parola di Dio è lo strumento che abbiamo nelle mani per distinguere la verità dall'errore, ciò che è vero da ciò che è falso. E quindi questo, ogni insegnamento, ogni anche esperienza come un miracolo, va confrontata con la parola di Dio, perché la parola di Dio è lo standard in materia di dottrina e anche di esperienza cristiana. Un altro passaggio che parla di falsi miracoli, lo abbiamo letto nelle presentazioni sul Marchio della Bestia, ma lo rileggiamo, è in Apocalisse 13, ai versetti 13 e 14. Il testo dice così, «Faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia». Quindi il testo parla dell'attività della bestia che sale dalla terra, l'America, e ancora una volta troviamo segni miracolosi nel testo, ed è proprio grazie a questi segni, questi falsi miracoli, questi segni miracolosi, che il protestantesimo americano ingannerà gli abitanti della terra. Lo dice il testo, «Seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che compiva». Erano prodigi compiuti non con il potere, o saranno prodigi non compiuti con il potere di Dio. Abbiamo visto nella scorsa puntata che ci sono episodi nell'Antico Testamento nei quali Dio fece scendere fuoco dal cielo come segno della sua approvazione, e questo in contesti dove si parla di adorazione. Elia sul Monte Carmelo con i falsi profeti di Baal e Astarte, vera adorazione contro falsa adorazione. Dio fa scendere fuoco dal cielo per mostrare che stava dalla parte di Elia, oppure all'inaugurazione del Tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone. Dio fa scendere fuoco dal cielo per mostrare la sua approvazione nei confronti di quello che Salomone aveva fatto. E nel Nuovo Testamento, la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Dio mostra la sua approvazione nei confronti della Chiesa che si era riunita per pregare, per ricevere la promessa dello Spirito. Quindi l'Apocalisse ci sta dicendo in simboli che questi falsi miracoli e false manifestazioni dello Spirito Santo saranno prese come evidenze del fatto che Dio sta dalla parte di questi movimenti. E quindi il falso risveglio, l'inganno nella sfera religiosa sono legati alla crisi del marchio della bestia. E Satana ingannerà il mondo anche tramite falsi miracoli. Certo ci sono le false dottrine che sono inganni di Satana, ma esistono anche false esperienze, false manifestazioni dello Spirito, falsi miracoli. Anche questi saranno usati da Satana per ingannare e per promuovere le false dottrine, perché movimenti che avranno false dottrine avranno anche apparentemente potenti manifestazioni dello Spirito Santo, che però non saranno autentiche. Più avanti nell'Apocalisse, al capitolo 16, in un contesto nel quale si parla delle ultime sette piaghe, c'è un testo che è praticamente parallelo a quello che abbiamo appena letto in Apocalisse 13. Lo andiamo a leggere in Apocalisse 16, i versetti 13 e 14. Questi versetti menzionano tre potenze che condurranno il mondo nella battaglia di Armageddon, il dragone, la bestia e il falso profeta. E tutte queste tre potenze, o questi tre elementi, costituiscono una falsa trinità, che è una contraffazione della vera trinità. E questi tre poteri appaiono in Apocalisse 12 e 13. In Apocalisse 12 compare il dragone, che è simbolo di Satana, e in Apocalisse 13 compaiono le altre due bestie, la bestia che sale dal mare, simbolo dell'anticristo, e la bestia che sale dalla terra, che qui viene chiamata però, in Apocalisse 16, come anche in Apocalisse 19, il falso profeta. In questa contraffazione della vera trinità, in questa falsa trinità quindi, il dragone, che è Satana, secondo Apocalisse 12, 9, è la contraffazione di Dio Padre. La bestia che sale dal mare, cioè il papato, è la contraffazione di Cristo, e questo non ci sorprende perché è il potere dell'anticristo, e anticristo vuol dire colui che è contro Cristo, colui che si mette al posto di Cristo, e la bestia che sale dalla terra, il falso profeta, è la contraffazione dello Spirito Santo. Dimostriamo biblicamente quello che ho appena affermato. In Apocalisse 13, versetto 2, è detto che il dragone, cioè Satana, diede la sua potenza, il suo trono, e grande autorità alla bestia che sale dal mare, cioè al papato. Nello stesso modo, il padre ha dato la sua autorità e la sua potenza a Gesù, e gli ha anche concesso di sedersi sul suo trono. Quindi da una parte avete il dragone che dà l'autorità alla bestia che sale dal mare, e gli dà anche di sedersi sul suo trono, e dall'altra parte il padre fa la stessa cosa con il figlio. Il padre ha dato ogni potestà a Gesù, Gesù lo ha detto dopo la resurrezione, ogni potestà, cioè ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, mi è stata data, vuol dire che è il padre che gliel'ha conferita dopo la resurrezione. E poi Gesù si è seduto sul trono del padre, alla destra del padre, come scritto in Apocalisse 3, 21, che concederà a coloro che vincono di sedersi sul suo trono come il padre ha concesso a lui di sedersi sul suo trono. Poi la bestia che sale dal mare è la contraffazione di Cristo, quindi è il potere dell'anticristo ed è la contraffazione satanica di Cristo. Andiamolo a dimostrare. Al papato fu dato di operare e dominare per 42 mesi profetici, che sono tre anni e mezzo profetici, corrispondono ai 1260 anni di dominio papale, ma sono tre anni e mezzo profetici. Al termine di questo periodo, nel 1798, il papato ha subito una ferita mortale, cioè l'è stato tolto il potere temporale. Ma l'Apocalisse ci dice chiaramente che sarebbe guarito da questa ferita. Addirittura in Apocalisse 13, nella seconda parte del capitolo, si parla del fatto che era stata ferita con la spada, ma era tornata in vita. Quindi una specie di resurrezione del papato. similmente Gesù iniziò il suo ministero al battesimo. La bestia che sale dal mare, simbolo dell'anticristo, sale dal mare, quindi esce dall'acqua e domina per tre anni e mezzo profetici. Gesù esce dalle acque del battesimo e inizia il suo ministero terreno come messia che dura tre anni e mezzo letterali. Il potere papale, dopo aver dominato per tre anni e mezzo profetici, i 1260 anni, subisce una ferita mortale dalla quale ritorna in vita. Gesù, dopo i tre anni e mezzo letterali del suo ministero terreno, viene crocifisso, quindi viene ucciso e poi risuscita, cioè ritorna in vita. Vedete come il papato imita Cristo tutti i passi perché è l'anticristo e colui che si sostituisce a Cristo in questa falsa trinità. E infine la besta che sale dalla terra è chiamata anche il falso profeta per ben tre volte nell'Apocalisse, rappresenta una contraffazione dello spirito santo. Andiamolo a dimostrare biblicamente. Un profeta è colui che dice di parlare da parte di Dio e nello stesso modo la besta che sale dalla terra parla come un dragone. Un profeta parla da parte di Dio in questa falsa trinità Dio padre rappresentato dal dragone e questa besta che sale dalla terra parla come il dragone, cioè il padre in questa falsa trinità. Poi la missione dello spirito santo, del vero spirito santo è quella di volgere l'attenzione degli abitanti della terra verso Gesù come salvatore. Gesù lo ha detto in Giovanni 16 che avrebbe preso del suo e lo avrebbe annunziato, avrebbe glorificato Gesù stesso. Quindi lo spirito santo non cerca di attrarre l'attenzione del mondo verso se stesso ma cerca di attrarre l'attenzione del mondo verso Gesù, di portare il mondo ad accettare Gesù come salvatore. Questa è l'azione che troviamo in Apocalisse 13 da parte del falso profeta o la besta che sale dalla terra che è simbolo degli Stati Uniti d'America o meglio del protestantesimo americano perché gli Stati Uniti d'America volgeranno l'attenzione degli abitanti della terra verso la besta che sale dal mare cioè verso l'anticristo come lo spirito santo volge l'attenzione del mondo verso Cristo così il protestantesimo americano volgerà l'attenzione del mondo verso l'anticristo. Abbiamo parlato di questo in dettaglio nelle due puntate sul marchio della bestia. E qui in Apocalisse 16 abbiamo letto che Giovanni quindi vide uscire dalla bocca di questa falsa trinità dalla bocca del dragone dalla bocca della bestia o la bestia che sale dal mare e dalla bocca del falso profeta la bestia che sale dalla terra vide uscire tre spiriti immondi simili a rane e vengono definiti nel testo come spiriti di demoni. Quindi si parla chiaramente di potenze demoniache in questo passaggio che compiono segni miracolosi quindi falsi miracoli con lo scopo di radunare i re della terra contro il popolo di Dio per questo gran giorno della battaglia di Dio e combatteranno l'agnello combatteranno Gesù nella persona dei suoi discepoli e il simbolo delle rane qui che sono simbolo appunto di questi spiriti di demoni non è preso a caso perché ricordiamo che questo brano Apocalisse 16 che abbiamo letto si situa all'interno del capitolo delle ultime sette piaghe e le rane sono presenti anche nelle piaghe d'Egitto nelle dieci piaghe d'Egitto quindi bisogna studiare le dieci piaghe d'Egitto per capire qual è il significato delle rane qui perché vengono presi questi demoni perché vengono rappresentati da rane nelle ultime sette piaghe nel brano che parla delle ultime sette piaghe anche in Egitto al tempo di Mosè al tempo delle dieci piaghe vediamo il potere dell'occulto all'opera qui in Apocalisse 16 vediamo potenze demoniache sono spiriti di demoni all'opera ma questi stessi spiriti di demoni erano stati all'opera anche in Egitto al tempo delle dieci piaghe al tempo di Mosè andiamolo a leggere farò solo riferimento velocemente a brani che potete leggere in Esodo ai capitoli sette e otto quindi in Esodo sette è scritto che quando Mosè fece gettare ad Aronne suo fratello Aronne a terra il suo bastone questo bastone divenne un serpente e tutto questo avvenne davanti al faraone per convincere il faraone del potere di Dio il problema però è che i maghi egiziani fecero la stessa cosa con i loro bastoni e poi il serpente di Aronne mangiò gli altri serpenti in realtà i serpenti dei bastoni dei maghi egiziani non diventarono veramente serpenti perché Satana abbiamo detto non può dare vita Satana non aveva il potere di dare vita a un bastone ma Mosè scrive dalla prospettiva di quello che ha visto ha visto quei bastoni diventare serpenti evidentemente era un'illusione sembravano serpenti ma Dio diede dimostrazione al faraone e ai maghi egiziani della sua superiorità facendo mangiare al serpente di Aronne i serpenti dei maghi egiziani la prima piaga ad Egitto sempre in Esodo capitolo 7 la troviamo ci parla del fatto che Dio ha trasformato in sangue le acque dolci dell'Egitto quindi i maghi egiziani replicarono lo stesso miracolo la seconda piaga fu quella dell'invasione delle rane e anche questa fu replicata dai maghi egiziani lo potete leggere ai primi versetti di Esodo capitolo 8 ma la terza piaga quella successiva fu l'invasione di zanzare e questa volta i maghi egiziani non poterono replicarla quindi avete due piaghe acque trasformate in sangue e rane e i maghi egiziani riescono a replicare queste prime due piaghe terza piaga le zanzare i maghi egiziani non riescono a replicarla quindi che cosa rappresentano le rane sono l'ultima piaga che i maghi egiziani sono riusciti a replicare col potere dell'occulto quindi in Apocalisse 16 gli spiriti di demoni sono rappresentati da tre rane perché? perché come in Egitto la piaga delle rane è stata l'ultima che i maghi sono riusciti a replicare quindi l'ultimo inganno del potere dell'occulto così il testo ci sta dicendo che l'ultimo inganno per la terra durante la crisi finale del marchio della bestia sarà un inganno legato al potere dell'occultismo è per questo che troviamo gli spiriti di demoni rappresentati da rane il testo ci vuole indirizzare a capire che lo spiritismo il potere dell'occultismo giocheranno un ruolo centrale negli inganni degli ultimi tempi e stiamo parlando di falsi miracoli falsi miracoli che sono compiuti grazie al potere dell'occulto sì anche da persone che si professano cristiane e lo leggeremo tra un attimo quindi i miracoli di per sé non sono un'indicazione sicura che una persona o un movimento provenga da Dio Dio sì fa ancora miracoli Dio ci ha messo in guardia dai falsi Gesù ci ha messo in guardia in Matteo 24 dai falsi miracoli se non esistessero più i veri miracoli oggi Gesù ci avrebbe messo in guardia da tutti i miracoli sarebbe stato più semplice ci avrebbe detto tutti i miracoli alla fine dei tempi verranno da Satana ma non è così perché Dio ancora compie miracoli in questi ultimi tempi e io ci credo fermamente ma allo stesso tempo dobbiamo dire che Satana anche compie miracoli e quindi ciò che testimonia del fatto che una persona o movimento provengono da parte di Dio è la loro adesione alle sacre scritture in Isaia 8 versetto 20 è detto attenetevi alla legge e alla testimonianza e se qualcuno non parla in accordo con esse con le scritture vuol dire che non c'è luce in loro vuol dire che sta insegnando l'errore e Gesù in Matteo 7 nel Sermone sul Monte parlò di credenti che saranno condannati nel giudizio pur avendo compiuto miracoli notate questo testo che è molto serio Matteo 7 da 21 a 23 non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli non chiunque mi dirà Signore Signore quindi qua Gesù nel contesto sta parlando di credenti perché chiamano Gesù Signore hanno creduto in Gesù come Signore e Salvatore almeno non in modo genuino ma si professavano cristiani se no non chiamerebbero Gesù Signore quindi qua Gesù sta parlando di credenti è un passaggio molto serio perché guardate come va avanti dicendo molti mi diranno in quel giorno è il giorno del giudizio Signore Signore di nuovo lo chiamano Signore sono persone che si professano cristiane Signore Signore non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fate nel tuo nome molte opere potenti si parla di miracoli qua e allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità a persone che avevano scacciato demoni predicato e fatto molte opere potenti nel nome di Gesù Gesù dice voi siete operatori di iniquità cioè avete operato il male perché questi miracoli erano stati compiuti tramite il potere dell'occulto erano falsi miracoli e si parla di professanti cristiani proprio come in Apocalisse 13 questi falsi miracoli e prodigi avvengono in un contesto nel quale si parla del protestantesimo americano è un testo molto serio è una domanda molto seria quella sulla quale abbiamo riflettuto in questa puntata perché i miracoli compiuti da un movimento o da una persona non sono affatto indice sicuro per garantire che quel movimento o quella persona provenga da Dio ma è l'adesione alle scritture che è un test sicuro e quindi quando trovate una persona che afferma di avere il potere di guarire o un movimento nel quale ci sono molti miracoli potrebbe essere che è Dio che compie quei miracoli certamente ma bisogna vedere qual è l'insegnamento di questo insegnante di questo evangelista di questo pastore o di questo movimento quali sono gli insegnamenti qual è la vita dei credenti che appartengono a questo movimento quali sono i frutti perché questo ci parla molto di più del fatto che provengono da Dio oppure no rispetto al fatto che compiano miracoli abbiamo visto che negli ultimi tempi ci saranno persone anche persone che si professano cristiane che compiranno miracoli ma Gesù dirà loro io non vi ho mai conosciuti quindi non è chi dice signore signore che entrerà nel regno dei cieli potremmo dire non è nemmeno chi compie miracoli nel nome di Gesù che per forza entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre chi ha insegnato la verità chi ha messo in pratica la verità questi saranno benvenuti nel regno di Dio dal Signore Gesù Cristo grazie a tutti